Ora sei in diretta, anche oggi, puntuali, ore 18, questa volta siamo stati più puntuali del solito, 18.01 Preparo le cuffie, perché oggi c'è un grande intervento, l'intervento di Riccardo di Frini e Frizioni quindi aspettiamo che si connetta, aspettiamo che si connettano i soliti che non abbandonano mai le nostre dirette intanto vedo già M.Cipo, vedo Ignazio, vedo Svezzatore, vedo Gianluca ce ne sono un bel po' di personalità, il gruppo cresce sempre di più ecco, si è connesso anche Riccardo e adesso iniziamo ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao 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 allora, breve presentazione, gli sarà il nostro ospite oggi Riccardo è uno dei proprietari di Freni e Frizioni, un locale molto bello di Roma sicuramente se vivete nella capitale lo conoscete sicuramente se non vivete nella capitale quando si potrà viaggiare di nuovo fateci un salto perché ne vale davvero la pena si trova in Piazza Trilussa che è uno dei centri nevralgici della movida capitolina e fanno una miscelazione molto particolare pur avendo un high level o meglio un locale con tanto afflusso di conseguenza oggi ci facciamo spiegare un po' qualche trucco sicuramente e poi Riccardo visto che ha approfondito molto il mondo del pisco ci parlerà un po' di questa sua passione quindi lo invito subito intanto partecipano sempre più persone c'è anche Serpino che non ci abbandona mai eccolo ciao ciao come stai? tutto bene, tutto bene io tra una diretta e l'altra mi sento un po' Barbara D'Urso in questi giorni però però la grazie perché anche tu stai facendo un bel progetto di diretta, vero? sì, 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 lo sto facendo uno con la pagina di Freni e Frizioni in cui di volta in volta intervisto dei barman per cercare di capire il loro lato umano non quello lavorativo quindi poi interviste più personali e un altro che tra l'altro ho iniziato oggi con la mia pagina personale dove intervisto di volta in volta due brand ambassador per cercare di capire questo ruolo che sembra che ormai vada di moda tra i barman che aspirano poi in un giorno a diventare brand ambassador e cerco di capire se veramente è una cosa che merita o no certo, certo ottimo anche io, sai, sto facendo un bel po' di diretta e mi sono attrezzato anche con le luci ti faccio vedere ho un faro puntato lì su guarda tipo Barbara D'Urso guarda, ieri stavo con lì di Cocktail for You non so se conosci i ragazzi sì, 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 come no ciao Giorgio c'è anche Giorgio che ci saluta sì, sì, un salutone e anche lui stava molto professionalmente e anche lui con due fari sparati davanti a questo punto mi dovrò attrezzare anch'io eh sì, devi fare uno softbox poi magari se non trovi qualcosa online ti faccio vedere come si fa con una scatola di scarpe e una lampadina esatto, esatto fammi un tutorial come no allora Rick, dove ti trovi in questo momento? sei a Roma? sì, 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 sì a casa a casa mia segregato purtroppo siamo già dall'8 marzo che siamo chiusi domanda al diritto che sto facendo un po' a tutti quanti le persone che intervano hai visto come si vive la situazione un po' della quarantena nel posto in cui ti trovi quindi a Roma in questo caso ma io non abito abito vicino il centro non proprio in centro quindi non so se le persone continuano a girare credo di no qua intorno io ho la scusa diciamo di portare a spasso il cane e devo dire che le strade sono abbastanza vuote quindi strade che alle 5-6 di pomeriggio sarebbero con code infinite vedi se no in mezz'ora tre macchine massimo qualcuno con la busta della spesa qualcuno con il cane come me ma niente più insomma quindi si vive molto in maniera tranquilla qualcuno dal balcone alle 6 ecco qualcosa sento mette qualche canzone anche qua ma non sono troppi e anche quelli ok ok quindi si in maniera abbastanza tranquilla ma sembra di sì sembra di sì ok meno male boh qui da me invece molto tranquillo non succede proprio nulla cioè non c'erano tante macchine sin dall'inizio però sai ovviamente adesso se ne vedono proprio strade deserte fa un po' quasi impressione ogni tanto meno male meno male speriamo che serva io resto a casa speriamo che serva sì 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 ma servirà sicuramente allora invece per quanto riguarda i locali che provvedimenti avete preso per ovviamente la chiusura sì 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 la chiusura noi l'avamo anticipata anche di un giorno nel senso vedendo i primi decreti che non erano ben chiari tra il primo decreto se ti ricordi era mi sa del 6 o del 7 marzo all'incepa diceva allora pub discoteche devono chiudere bar e ristoranti possono garantire un servizio con i tavoli distanziati eccetera eccetera questa è stata la prima e non si capiva bene qual era che cos'è un pub che cos'è un bar che cos'è un ristorante e quindi noi per sicurezza per paura anche per senso civile di non riuscire a rispettare le norme che lo Stato insomma imponeva abbiamo deciso intanto chiudiamo e poi vediamo che succede dall'accordo poi in realtà è arrivata l'ordinanza dopo il decreto dopo che praticamente ha detto no ok i locali vanno chiusi tutti quindi è stato più facile però noi diciamo avevamo anticipato di un giorno proprio perché non si capiva bene che cosa dovessimo fare chi eravamo noi perché per me nella mia concezione un pub è quell'inglese dove vai ti fai una pinta di birra magari ti vedi la partita tutto il legno eccetera per una persona più anziana e magari mi dice ma dove c'è là il pub sai amici di miei gingoni ma il pub dove c'è là quindi dato che fai decreti spesso sono politici comunque over 50 hanno detto ma noi saremo un pub o siamo un bar fa capire anche bar con la gastronomia dicevano boh ma noi siamo considerati ristoranti o siamo pub o siamo solo bar il bar è solo quello che fa il caffè la mattina cioè non si capiva nulla e poi piano piano hanno fatto chiudere tutti quindi hanno tolto il problema ah proprio sì sì è stato più chiaro chi doveva chiudere tutti sì sì tutti esatto esatto allora raccontaci un po' di Frini e Frizioni che cos'hai io lo conosco bene perché sono un cliente siamo visti più di qualche occasione però ecco raccontalo magari a chi non è di Roma beh guarda Frini e Frizioni è un locale che innanzitutto quest'anno sperando di poter festeggiare a luglio facciamo 15 anni quindi subito qua appare una cosa che secondo me quello che dico sempre ai ragazzi deve essere deve essere un vanto per noi che è quello di stare sul pezzo da 15 anni perché fare un bar adesso capire il mercato eccetera è più facile poi la qualità si vede anche nel tempo quindi noi andiamo avanti da 15 anni siamo uno street bar siamo nati come street bar e nel tempo siamo diventati come a noi piace definirci uno street cocktail bar quindi sai un po' come tutta la miscelazione italiana prima che il Jerry o altri personaggi in Italia portassero un certo concetto di miscelazione per noi il bar era fammi qualcosa di ti ho perso un attimo qualcosa di sì no era arrivata una chiamata ho ho accaduto quindi per me il bar era fammi qualcosa di forte fammi qualcosa di dolce qualcosa con la pesca e quello che facevamo noi allora io sono là da sette anni e mezzo mi hanno detto che freni fin dal primo giorno che ha tirato su le saracinesche è stato sempre un bar pieno di gente l'unica cosa è che la miscelazione si fermava come in tutta Italia spritz qualche Negroni Mojito Longalium eccetera con il tempo certo cocktail un po' più commerciali certo esatto dal mio arrivo in poi ma non per il mio arrivo perché era già stava succedendo quando sono arrivato io quindi sette anni fa con Cristian Bugiata che è il mio socio che adesso sta alla punta ma fa sempre parte ovviamente della società di freni e frizioni abbiamo cominciato anche seguendo le direttive che venivano il movimento che si stava creando in Italia un certo percorso e che ad oggi ci portano a fare una miscelazione anche se vogliamo avanzata usando tecniche di laboratorio tecniche più avanzate non dimentichiamo non dimenticandoci però come dicevi prima tu che siamo un high volume cocktail bar quindi è fare cercate di fare tutto ma se tu mi vieni mi chiedi un long gallon dite lo faccio lo sprezzi e continui a farlo diciamo che pochi cocktail non facciamo tipo i quattro bianchi quello perché è una cosa che non è il principio esatto però l'angelo azzurro esatto tranne quella categoria è là ti assicuro che facciamo facciamo veramente di tutto il menu noi ogni anno continuiamo a evolverci continuiamo a fare sempre cose più elaborate fermentazioni distillazioni infusioni sciroppi vari eccetera ovviamente quello è il nostro specchio ok freni e frizioni a questo menu freni e frizioni in grado se vuoi di darti qualcosa di diverso se ti vuoi bevere il mojito te lo bevi poi magari vedi uscire un drink con la lucetta sotto piuttosto che con un pezzo di ghiaccio enorme dentro e il cliente interessa esatto il cliente interessato dice che è quello voglio provare è un po' lo stesso discorso che facciamo l'altra volta con Patrick di Dream Kong la stessa cosa lui non è che insiste tieni il menu bevi questo dice tu chiedimi quello che vuoi ma tanto prima o poi ti rendi conto che stai in un bar dove puoi bere altro ecco quindi è uno street bar con miscelazione anche secondo me insomma di qualità che però rimane il suo concetto street quindi aperta a tutti libero abbiamo una piazzetta davanti che è nostra cioè suolo pubblico però praticamente ci siamo solo noi quindi d'estate di un sabato bello busy riusciamo a fare anche più di 1500 drink se consideri che apriamo insomma dalle 6 e mezza alle 2 quindi credo sia una bella media certo ma tantissimo io non ho avuto la fortuna di vederlo di sabato freni e frizioni perché appunto facendo il bar mananchi io il sabato al giorno proprio almeno non puoi avere di riposo però mi è capitato di fare qualche passaggio in settimana anche durante uno di quei ultimi progetti che avete fatto cioè quello delle ospitate e è stata veramente delle belle esperienze delle grandissime esperienze sì 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 ecco cos'era questo progetto beh il progetto allora è questo io nel senso quella cosa che mi piace di più fare al mondo è viaggiare quindi un lavoro che ho iniziato io da qualche anno è cercare di portare freni non più solo a livello nazionale dove ormai per fortuna siamo abbastanza conosciuti quello che stiamo cercando io è quello di far diventare freni importanti anche a livello internazionale perché le persone per fortuna ci conoscono arrivo ai clienti dicono mi hanno suggerito questo nome dall'Australia da New York da tutto il mondo penso un po' è portare proprio il concetto di freni fuori e quindi sono un paio di anni che grazie anche non so a cosa vengo anch'io chiamato a fare guest durante i bar show all'estero serate e così via l'anno scorso aprile dopo 14 anni quasi abbiamo cambiato il bancone cioè proprio le postazioni bar che duravano appunto da 14 anni e l'abbiamo costruito secondo le nostre necessità quindi abbiamo tre postazioni a specchio super funzionale il barman in teoria se c'è un buon back non si muove più di un centimetro e abbiamo potuto cominciare a fare degli ospitali importanti tu mi nominai quella di Simone Caporale sicuramente c'era c'è stato Bruno Vanzanne che è stata la prima la prima guest che ha fatto dopo il lancio di Joven è stata la prima e poi quelle durante il bar show insomma e quest'anno avevo una bella scaletta che purtroppo è saltata avevo con Mancino e tra l'altro Giancarlo Mancino che ho visto prima e si era collegato dovevo avere Incock quindi per adesso è rimandato Nebisemmi dall'Australia e così via vediamo vediamo se sono solo rimandati o sono saltati comunque il progetto saranno rimandate dai siamo più viciosi sì 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 anche perché quello che penso è che quest'anno a Roma a luglio e agosto saranno diverse dagli altri anni una cosa non è mai esistita luglio e agosto Roma si svuota quest'anno credo che saremo tutti là quindi dovremmo riuscire e bere certo c'è anche Simone e Bodini che ci saluta e dice la rimandiamo Simone Bodini oggi è stato con me praticamente due ore sì è stato con me prima nelle dirette la degli Ambas adesso lo ripeto collegato qua tra un po' è un modo diverso per stare insieme dai ma sì se fai domenica dai convivialità esatto esatto allora Rick tu mi hai detto che in questa oretta perché purtroppo ho notato in questi giorni che Instagram ci ha concesso sempre meno tempo ci ha partito un'ora e mezza ora stiamo scrivendo sempre più un'ora e si interrompe tutto purtroppo in questa oretta voglio parlarci un po' del mondo che hai approfondito particolarmente che se non sbaglio è quello del pisco esatto infatti sto bevendo un pisco tonic con un ghiaccio che ho provato a fare clear è venuto metà in metà e sì guarda intanto salute tanto salute ho qua il mio whisky io pisco tonic salute e guarda il mondo del pisco la mia passione è nata in realtà un po' per caso un po' me la sono cercata nel senso io amo anche viaggiare da solo e qualche anno fa stavo per partire per il Peru quindi ho chiesto a qualche azienda se mi poteva mettere in contatto con con una distilleria per andare a fare una visita tolto che io quando viaggio cerco di associare il viaggio mio a qualcosa lavorativa non vado solo per lavoro quindi avrei dedicato uno o due giorni alle distillerie e quindi prima di partire ho cominciato a studiare un po' il pisco un pisco che io ho sempre avuto al locale una o due bottiglie ho sempre fatto i drink però per me il pisco era quella bottiglia sapeva di quello punto quando sono arrivato in Peru mi sono reso conto che dietro il pisco c'era tutto un mondo c'era una storia la storia di un paese di un distillato e che ci sono una varietà infinite di pisco cosa che qua in Italia ancora non riusciamo quello che provo a far capire che non è il pisco c'è il pisco così il pisco così c'è vari tipi di pisco quindi quando sono tornato ho detto cavolo mi è piaciuto tantissimo il Peru mi è piaciuto il distillato in Italia non lo tratta nessuno anche quello appuntava perché ad esempio sono amante dell'agave però già c'è Cristiano e Roberto e c'è il nostro altro progetto La Punta quindi non è che andavo perché se mi piace l'agave voglio fare anch'io qualcosa sull'agave no c'è già chi lo fa e lo fa abbastanza molto bene quindi ho approfondito poi ho avuto la fortuna di qualche mese dopo è venuto il produttore di pisco Porton che tra l'altro è quello che sto bevendo che è anche uno è il massimo esperto di pisco che c'è forse al mondo è venuto a fare una master qua a Roma in un hotel e mi hanno invitato addirittura l'ambasciata mi ha invitato quindi poi l'ho portato a fare l'aperitivo da me abbiamo parlato un po' e io stavo lì come un ragazzino con il taccuino a fargli le domande e a scrivergli gli appunti quindi sono andato avanti ho cominciato a fare qualche masterclass in giro specificando prima della masterclass ragazzi io non sono un esperto di pisco però sicuramente ne so qualcosa in più rispetto alla maggioranza dei bartender perché nessuno lo studiava non perché io sia figo e niente quindi ho deciso però se voglio fare questo lavoro devo andarci per bene quindi al marzo 2019 sono ripartito tra marzo e il periodo di vendemmia là in Perù quindi è là che inizia la produzione del pisco io ci ero andato a settembre sì bella tutta la distilleria ma era apparentemente non in funzione e quindi mi sono fatto 15 giorni viaggianto facendomi tutte le zone del pisco che sono 5 e vanno da Lima in giù fino al confine con il Cile ok definiamo un attimo che cos'è il pisco perché magari qualcuno non lo ha mai sentito cosa è questo distillato nuovo che cos'è il pisco? sei armeco del pisco in Italia è di parte è di parte allora il pisco è semplicemente un distillato di mosto d'uva fermentata che viene fatta alla stessa maniera ovviamente usando anche tecnologie più avanzate ma da più di 500 anni quindi è praticamente si segue il processo che si fa per il vino solo che appena finisce la fermentazione si va in distillazione quindi la prima differenza con la grappa è che non usa le vinacce ma usa proprio il vino quindi l'uva che viene raccolta per fare pisco è l'uva fatta apposta per il pisco non si usa uno scart non si usa altro quindi è questo è il pisco e viene fatto in Peru e anche in Cile tra poco spiegherò però la differenza e soprattutto come tutti i distillati sudamericani ha iniziato ha iniziato ha iniziato a dare la sua esistenza all'invasione dei spagnoli questi spagnoli che hanno che hanno invaso tutto per esempio il Sud America tranne poche regioni e da là in poi sai che i spagnoli quando invadevano lo facevano sia per conquistare territori per prendere ricchezza in Peru ne hanno rubate tantissime ma anche per diffondere il cristianesimo e i preti e i sacerdoti che si portavano dietro per diffondere il cristianesimo hanno bisogno d'uva per il vino per le loro funzioni religiose cerimonie cerimonie esatto e l'uva è arrivata in Peru o solo che ai peruviani l'uva non piaceva poi il vino peruviano è diventato famoso non hanno iniziato a esportare però che è successo che i produttori di vino spagnolo hanno detto senti ma questi ci stanno rubando il mercato con questo vino peruviano allora il re spagnolo ha deciso di bloccare l'esportazione e quindi in Peru si sono trovati con litri e litri di vino non sapevano che farci e l'hanno distillato quindi questo è di solito faccio master di duro e sto cercando di andare il più possibile grazie questo è come è nato il pisco praticamente quindi da per colpa degli spagnoli che hanno conquistato il Peru però grazie agli spagnoli oggi abbiamo il pisco ma sai che queste cose sto riscontrando che un sacco di distillati sono nati un po' per caso ad esempio c'era Luca l'altro giorno che ci ha fatto un bello specchio sul mondo dei rum e ci ha raccontato che il martinicato è nato un po' per caso perché insomma quando si è bloccata la produzione l'esportazione tra canazzo che ci facciamo esatto quindi un po' lo stesso concetto sì 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 è nato un po' anche perché prima sai i distillati non erano non era il mercato che c'è adesso quindi non era produciamo pisco così facciamo un sacco di soldi no appunto erano erano più per necessità a volte o appunto per caso come hai detto te ok tanto c'è anche Luca che appunto si è piena connesso sì l'ho visto quindi niente allora dimmi te se vuoi ti dico no sì sì vai avanti con il tuo racconto ah ok sì sì come no allora diciamo che appunto viene fatto io dico in Perù perché il pisco originale è peruviano quindi sfatiamo questa cosa perché a volte quando si dice pisco si pensa al pisco però alcune persone dicono ah sì l'ho bevuto nella mia vacanza in Cile io sono stato anche in Cile tra l'altro bel paese pure quello però molti dei certificati storici documenti storici molti studi hanno dimostrato che il pisco originale è peruviano viene fatto è nato appunto nella regione che si chiama pisco che si chiamava già a fine 500 pisco e tant'è che il pisco inizia era la guardiente d'uva d'episco quindi che proviene da pisco un po' come il tequila che era vino de mescal de tequila poi vino di tequila e alla fine quel vino di tequila quel vino di mescal di tequila è diventato solo tequila quindi qui a guardiente de uva de pisco è diventato pisco quindi è peruviano la commissione europea nel 2013 ha detto ok il pisco è un prodotto originale del Perù ma questa è una cosa che fa imbestialire i peruviani anche il Cile può chiamarlo pisco allora i peruviani dicono ma se il nostro è quello originale perché anche il Cile può chiamarlo pisco è come se in Cile si mettessero a fare la grappa e dicono grappa o si mettessero a fare il vermo di Torino che adesso ha la doc ah noi facciamo il vermo di Torino no la doc è quell'altra comunque va bene a parte questa datriba ha anche molte differenze tra l'altro il prodotto prima quello cileno inoltre diciamo delle differenze di pisco ci sono otto tipi di uva per fare il pisco quindi può essere di fatto con otto uve differenti e in quel caso quando è fatto con un solo tipo di uva è pisco puro quindi la chebranta è la più famosa è come l'espadine per il mescal quindi la chebranta è quella che vedrai di più in giro anche quella più che si usa più in miscelazione e poi ci sono altri tipi di sette di uva vengono divisi in quattro aromatiche e quattro non aromatiche anche se a me il termine non aromatica non piace perché tutti i tipi di uva sono abbastanza aromatici detto ciò dopo senza adesso vi faccio l'elenco dopo questi otto tipi di uvaggio abbiamo tre tipi di pisco abbiamo il puro come ti ho detto acciolato prima qualcuno chiedeva acciolato significa è un blend è un blend di due o più uvaggi quindi chebranta Italia Moscatelle chebranta Albi eccetera eccetera quindi è fatto da due o più uvaggi e poi c'è il mosto verde che è una cosa molto particolare ossia il mosto d'uva la fermentazione viene interrotta prima che tutti gli zuccheri vengono trasformati in alcol quindi avremo un mosto più dolce perché comunque ci sarà un residuo zuccherino e quando si va a distillare ovviamente lo zucchero non passa attraverso la distillazione quindi sfatiamo questo luogo diciamo c'è lo zucchero nel mosto poi c'è lo zucchero nel distillato no non c'è però avremo sicuramente un pisco più rotondo e più suave come dicono in spagna quindi ecco quello che vi invito io è quando andate in giro a stavo vedendo c'è una bottiglia al volo ma ce l'ho tutte nascoste però ad esempio in questo caso Porton il tipo di pisco ce l'ha nell'etichetta qua quindi continuo a chiamarmi è un'etichetta acciolato ci ho perso di nuovo sì quindi sì ci dovrei essere quindi è un acciolato quindi è un acciolato o ci potrebbe essere scritto chebranto Italia quindi cominciate il mio consiglio è far a vedere le differenze che ci sono all'interno all'interno del pisco e magari se vi capiterà di finire a qualche mia masterclass ne assaggiamo anche qualcuno insieme per capire le differenze ecco questo il brutto il brutto di queste live è che poi non si possono scambiare bicchieri esatto è il brutto di queste live esatto passo velocissimo anche alla produzione la produzione c'è la vendemmia che come detto viene tratto il braio marzo l'uva viene trasportata nelle distillerie che si chiamano Bodegas in Peru viene scaricata su una macchina si chiama Despaiador e quella che prende separa gli acidi d'uva dai rametti quindi l'uva va di qua e i rametti via li separa ovviamente prima si faceva a mano adesso c'è una macchina che fa tutto da sola l'uva viene poi mandata pompata se c'hai una distilleria abbastanza nuova quindi pompata nei tank di macerazione dove sta lì 24 ore e poi viene mandata nella pressa la pressa che c'è la pressa adesso lo uso quasi tutti con la pneumatica è proprio un pneumatico è un cilindro dove c'è come una camera d'aria che si gonfia e si sgonfia gonfiando si preme l'uva l'uva addosso alle pareti e il succo esce certo ho visto anche un produttore in 15 giorni ho fatto 22 distillerie c'è anche un produttore che ho visto che ancora pestava coi piedi come ricordi c'è un film di Celentano che si chiama Serafino i nostri nonni esatto o se no ci sono delle presse che nessuno usa più però di legno proprio quelle che tu devi muovere alla manovella per far scendere un piatto pesante di legno eccetera il torchio il torchio sì una sorta di torchio gigante e quindi niente poi abbiamo detto viene pressata il succo d'uva va in fermentazione fermentazione che dura tra gli 8 e 12 giorni il mosto verde come ti ho detto prima un po' di meno e poi andiamo alla distillazione qui abbiamo una cosa molto importante da dire che la distillazione per legge il pisco deve essere distillato una sola volta quindi è uno dei pochi distillati secondo lui che viene distillato una sola volta in alambicchi discontinui quindi il prodotto che esce dalla prima distillazione è già il prodotto che noi poi andremo a bere ovviamente dopo un riposo anche qua passiamo invece al riposo che non ho detto un invecchiamento perché il pisco peruviano è contato di quello cileno non può toccare legno non ci può essere aggiunta acqua non si può toccare non si può alterare in nessun modo quindi nemmeno l'acqua zero il prodotto che c'è l'alambicco è già quello pronto per essere messo in riposo che deve essere per il minimo di tre mesi anche se di solito la media di un anno in tanche di solito ci sono tanche di acciaio possono essere anche di politielene che è quella plastica in sapore in odore e niente e poi il prodotto viene filtrato e imbottigliato quindi una cosa molto particolare appunto che io dico sempre del pisco è che viene da una sola distillazione pensa che alcuni produttori di cognac hanno chiesto a questo Johnny Shuler hanno detto ma come è possibile che voi con la sola distillazione riuscite ad ottenere un risultato e con una gradazione del genere questo ancora non è molto chiaro secondo me loro dicono è la magia della materia prima molto romanticamente praticamente dicono loro hanno talmente un'uva particolare con un grado brics abbastanza deciso che riescono ad allungare sia le teste sia le teste sia le code quindi praticamente se la prima parte che puoi prendere del distillato dopo le teste a 60 gradi e puoi scendere fino a che non esce un distillato a 20 gradi tagli la media a 40 gradi cioè loro dicono questo capito il taglio delle teste delle code più lungo riescono ad avere un distillato che ha una gradazione che si desidera adatta esatto robot alcolisti si usa anche il cemento armato sono sono quattro quelli quelli consentiti quindi è scusa acciaio c'è cemento c'è politelene e qualcuno il vetro però insomma il vetro è più una cosa da nerd l'ho visto a distruire c'era dei boccioni di vetro eccetera l'importante è che non si usa legno i vasi di terracotta si chiamano boticas o piscos tra l'altro anche questi si chiamavano piscos dagli inca e questi erano utilizzati più prima adesso sono principalmente sono addobbi per la distilleria perché semplicemente mi è stato detto che gli artigiani che facevano questi vasi di terracotta non esistono più cioè è una cosa che non si è più tramandata e quindi c'è qualcuno che lo fa lo fa per qualche edizione speciale o qualcosa veramente di particolare adesso posso li vedi li vedi perché ci stanno quasi tutte le distillerie ma sono più da ornamento piuttosto che un vero utilizzo ok intanto una domanda sì no non viene tagliato con acqua esce direttamente a gradazione e poi nel reposo può perdere uno o due gradi diciamo che per leggi il pisco deve essere tra i 38 e i 48 gradi però di solito i distilleri si mantengono tra i 40 42 43 ok perfetto vabbè anche lì insomma entrando io con la quota dei angeli comunque un minimo di evaporazione anche a temperatura si 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 un minimo un minimo per il resto per il resto per il resto è quello è quello che è ci vuole anche sapertura di assaggiarlo direttamente uscire alla lambicco e ti dico la verità ha bisogno un po' Manuele Brunis che ti capisco era ti capisco è stato forse il mio primo drink fatto col pisco quando ti dicevo prima che sapevo neanche cosa fosse era un tiche con il pisco l'avevo chiamato ti capisco è carino chissà si si la distillazione appunto viene fatta in lambicchi discontinui o vengono utilizzate delle falcas le falcas sono gli lambicchi più originali per fare il pisco sono metà in cemento metà in rame la cosa differente è che vediamo se riesco a fartelo vedere qua si no niente allora queste sono le falcas vedi sono un po' con i forni questi sono i tanchi di raffreddamento eccetera praticamente la differenza vera è che ho fatto un macello ma distruggo la mia slide la la differenza vera è che le falcas non hanno il famoso collo di cigno certo quindi non hanno questo ma hanno quello che chiamano un cannon quindi praticamente c'è meno controllo su quello che arriva direttamente al distillato se per qualcuno potrebbe sembrare un difetto per altri ovviamente piace è come se ti piace più il mescale quello più delicato quello invece che bello ignorante affumicato che sa questa nota di acetone eccetera quindi sono scelte a me piace il distillato ignorante dico la verità anche prima parlavi di rum io sono amante di tutta la serie clarin piuttosto che gli habitation il giamaicano quello fatto bene eccetera quindi quello proprio il vero prodotto della terra va esatto esatto io sono per sentire ad esempio sul tequila a me piace tanto a parte la ocio la fortalesa che la fortalesa senti proprio il sapore dell'agave che è cotto in maniera molto ancestrale a rispetto ad altre tequila magari anche più rinomate anche più costose che invece sono più più delicate no certo ecco forse ce l'ho fatta il disegno non si vede in gravo no non vedo purtroppo ok è bianca il disegno della falca sera niente di che intanto prima è arrivata la domanda di un ragazzo che diceva mi sono appena connesso se potevi rispiegare qualcosa mi permetto di rubarti un secondo per dire che tutti quanti questi appuntamenti anche quelli fatti nei giorni scorsi anche quello che facciamo oggi con Riccardo poi li ritrovate sul canale youtube quindi tutta la lezione rimane sempre salvata e è possibile rividercela quando vogliamo ok esatto esatto e niente quindi dicevo questo è quello che appunto succede adesso in una distilleria dicevo arrivano la macchina che separa tutto poi la pompa che ti manda in macerazione poi una pompa che ti manda la pressa la pressa ancora il liquido viene pompato e mandato in fermentazione di nuovo verso l'alambicco invece prima le vecchie distillerie erano costruite per gravità dando che non avevano macchinari quindi la pressa si faceva in alto si faceva in alto poi dopo una volta pressato si apriva il tappo e c'era una canalina che ti portava alla macerazione aprivi un altro tappo e c'era quella che ti portava la fermentazione poi aprivi la fermentazione c'era una canalina che ti infilava insomma il prodotto nei vari tank di fermentazione poi di nuovo aprivi i tappi e c'era un canaletto che andava a finire direttamente l'alambicco che era ancora più in basso quindi era pensa un po' quindi in montagna le offriccevano stelle si si era la distillerie costruita per gravità perché il liquido da solo senza pompe eccetera da solo doveva piano piano fluttuare verso il basso molto intelligente come la prima ingegneria esatto esatto ma vedi delle cose assurde tra l'altro consiglio a tutti di andare a farsi un viaggio in Perù al di là del pisco quindi consigli consigli per i viaggi dato che adesso non possiamo viaggiare almeno parliamone una cosa che mi è piaciuta più del Perù è che il fatto che è un paese straordinario innanzitutto è stato l'epicentro dell'impero inca quindi l'impero inca si snodava dalla Colombia fino a giù nell'Argentina eccetera però l'epicentro è stato Cusco no Maciupiccio eccetera ha una biodiversità assurda ha un territorio di differenza si va dalla costa al deserto le ande la giungla eccetera ha la biodiversità ha 187 microclimi di 117 esistenti sulla faccia della terra e poi la sua cucina è una delle migliori al mondo non so se sai ma ha vinto per 8 anni di seguito miglior meta enogastronomica per i Travels Awards pensa un po' quest'anno ha vinto per l'ottava volta non mi ricordo quindi è la meta per non porci mancare si 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 la consiglio a tutti ok dov'è la concentrazione di Pisco in Perù cioè dov'è dov'è che lo producono maggiormente allora ti dicevo che la zona di produzione è da Lima in giù diciamo che l'epicentro della produzione di Pisco è Ica sta a sud di Lima e lì è un po' come non so se sposa di Mescal è un po' come Oaka per il Mescal il Mescal si fa in diversi stati però il fulcro della produzione del Mescal è Oaka e per il Pisco è Ica dove ci sono molte distillerie molte distillerie che non è facile andare a vedere perché di solito stanno un po' fuori dai centri abitati in strade sterrate eccetera però poi c'è anche Arequipa Tacna Moquegua e io questo viaggio è stato una bella avventura pensa che da Arequipa io ci ho fatto la prima settimana in jeep insieme a Johnny Shul il produttore di Porton ho dormito anche tre giorni in distilleria e poi il resto del viaggio quando abbiamo fatto una settimana dove abbiamo già visto di tutto lui mi fa io devo tornare a Lima che tra tre giorni vado in Messico tu che fai? io continuo a sud e lui mi fa bravo, complimenti penso che sei l'unica persona che da qua va a sud perché non sono zone pericolose ma sono zone tranquille anzi molto carine ma semplicemente non sono turistiche cioè se io fossi un turista non andrei mai forse a perdere tempo laggiù capisci? e io invece pensa che un viaggio mi hanno organizzato anche una guest al volo a un bar che si chiama il Museo del Pisco che ce n'è due a Lima una Arequipa e una a Cusco e lì ho conosciuto un ragazzo che era innamorato dell'Italia del calcio italiano del Piero eccetera e mi ha detto io se vuoi domani vado con mio padre giù a Tacna più o meno sette o otto ore di macchia se vuoi ti do un passaggio io e tu dice ti fidi o non ti fidi eccetera poi era amico di uno del locale dove stavo e allora abbiamo fatto mi è venuto a prendere la mattina io premetto quello spagnolo che sono ho imparato viaggiando nei vari viaggi in sudamera ok in macchina con il padre lui e io e poi mi dice senti ma ci vogliamo andare a mangiare una cosa al mare faccio una deviazione vabbè quindi dalla fine siamo andati al mare siamo fatti un bagno e fatto sta che ci abbiamo messo più di dieci ore arrivare dovevano arrivare quindi questo per dirti che cosa ho fatto per studiare tutte le zone del Pisco e ne sono tornato più ricco nel senso sicuramente sia di esperienze che di conoscenze sì soprattutto di conoscenze di esperienze è stata è stata anche dura perché comunque ero completamente solo nel senso io ti vedo viaggio da solo ma un conto vai a fare il turista conosci questo e quest'altro un conto sai le persone di stridire non sono bartender non sono gente spesso di 30 35 anni gente mi ricordo una delle migliori di stridire è stata vicino a Rekipa c'erano questo don Octavio che aveva avuto 70 anni quindi sono stato là con lui devi stare là in spagnolo magari ti invita a cena con la famiglia è tutto bellissimo però a lungo andare eppure un attimo devi stare sempre su pezzo non ti mai non ti via infatti gli ultimi tre giorni che sono tornato a Lima prima di ripartire per l'Italia ho fatto proprio il turista sono a vedere di nuovo la città sono andato a vedere il bar dove è stato inventato il pisco savar sono andato a vedere il carnaval che adesso è il numero 13 due giorni seguito il numero 13 al mondo dei best fifties sono stato là con i ragazzi due giorni eccetera un bel viaggio un bel viaggio sì 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 totalmente e se vuoi infatti ti nominiamo il pisco savar ti introduco un po' la miscelazione come no qualcuno ci ha anche chiesto che cos'altro ci consigli con il pisco oltre al pisco savar quindi ecco partiamo da lì iniziamo a sfatare un po' di lì di qualcosa allora il pisco savar è stato creato da un americano nel 1919 in un bar si chiama Morris Bar detto ciò dopo un po' Victor Morris è morto e i suoi diciamo discepoli sono andati a lavorare e il bar ha chiuso sono andati a lavorare in altri bar di altri hotel nel centro di Lima ed è al Morris Bar che il pisco savar è diventato famoso e che un certo Mario Brucet l'ha corretto e ci ha messo il bianco d'uovo e il bitter il bitter che è amargo ciuncio che è proprio il bitter peruviano fatto con le spezie dell'amazzonia peruviana o altrimenti angustura va più che bene quindi ci ha aggiunto il bianco d'uovo e ha fatto il pisco savar sai come dice spesso Tony parla piano a volte andare a cercare chi è il padre del drink non è facile a volte però il drink si associa a chi lo rende famoso nel senso se io creo un drink nel bar di periferia e poi viene un bartender dei best 50's se lo prende gli piace e lo fa nel suo bar che sta al numero 2 della classifica va gli un po' a spiegare che era il mio il drink cioè il bar il drink era la sua tra lui e quindi così è successo e quindi il bar nell'hotel Mauri io sono andato a trovare per la seconda volta è un barman che lavora là da 57 anni quello stesso barman lavora da 57 anni che tra l'altro beh poi questa è una storia sua personale triste lui in teoria sarebbe andato in pensione ma dato che la pensione non gli basta è in pensione ma continua a lavorare questa è un'altra storia ok e una cosa appunto che voglio dire a tutti è che in Perù se fai i sour come li facciamo noi da 50 ml bar da 2 once ti prendono per ragazzino in Perù in Perù si va dalle 3 once in su addirittura 3 once di pisco si 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 addirittura Johnny Johnny il proletario di Portoni che oltre a verlo con 4 once abbassa anche il lime e lo zucchero quindi io ti consiglio sempre di farlo dai almeno almeno da 2 once e mezzo parti uguali di 3 quindi diciamo 75-90 pisco 30 lime 30 zucchero 15 bianco d'uovo e delle cocce di bitter shaker shakerato senza ghiaccio e sarebbe preferibile in un old fashion magari un più piccolino perché loro lo servono in questi bicchieri forse riesco no non si vede ok si 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 ce l'abbiamo questo è di solito dove servono il pisco sour e questo ovviamente è il drink più famoso è quello che forse fa conoscere il pisco in giro e in realtà poi abbiamo altri drink abbastanza famosi uno è il circano ok un paio di domande al volo sul pisco sour sì che magari sono quelli che mi sono posto anche io sai quando lo prepari ma c'è qualcuno che dice si fa con il bianco d'uovo qualcuno dice uovo di gallina qualcuno dice uovo di quaglia qualcuno dice bitter angostura qualcun altro un altro bitter che preferisci vai raccontaci un po' cos'è meglio quaglia gallina no 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 l'uovo l'uovo super normale non è specificato vi posso assicurare non è mai stato specificato da nessun peruviano e di nessun libro anche quelli perché libri sul pisco non ce ne stanno solo qualcosa in perù trovi e nessuno ha mai specificato che è un uovo diverso da quello classico quindi bianco d'uovo di gallina classico e siamo a posto ok quindi quando avevamo scritto quaglia è una cavolata è qualcuno che si è inventato un bello storytelling sicuramente ma ti assicuro che non ho mai visto fare un piscosauro sentir dire che si fa il piscosauro si fa con l'uovo di quaglia ok perfetto quindi già abbiamo fatto vedere un po' un mito sì 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 secondo poi on the rocks o straight up quindi con uno senza ghiaccio senza ghiaccio ti ammazzano se lo fai con il ghiaccio in perù ma nemmeno raffreddato no no shakerato shakerato tutto però servito senza ghiaccio ok perfetto ma sono sono allora il piscosauro è veramente un drink che è molto nazionale in perù proprio è un drink che la gente sente loro e tra l'altro il primo sabato di febbraio si festeggia in perù il piscosauro day e quindi è proprio una festa quindi loro ci tengono molto a come lo fai non lo fare mai con ghiaccio ok perfetto va benissimo su creestre e altre alternative all'uovo no mi ha detto che insomma si utilizza l'uovo e basta quindi ti ripeto sono molto da questo punto di vista sono molto ho visto quanto sono tradizionalisti mentre il whisky sour sì magari è fatto in America o dunque però è un drink che è ormai internazionale il piscosauro è un piscosauro è un drink molto nazionale quindi per le cose di tradizione ci tengo che siano tradizionali altrimenti facciamo un twist e poi lo chiamiamo in un altro modo ma il piscosauro è così certo un po' come la pizza in Italia se metti l'anno sopra ti linciano oddio speriamo non ci sente Mario Farulla allora dicevi c'è anche qualcos'altro che possiamo preparare sì allora ci sono i quattro plastici il piscosauro un altro è il piscopunch piscopunch che pensa durante la corsa all'oro nel 1850 a San Francisco era il drink più bevuto appunto a San Francisco era quindi pisco è solo allora se non ti piace l'ananas non te lo bevi perché evidentemente è solo l'ananas c'è appunto pisco sciroppo di ananas succo di ananas e lime semplicemente era nato come ricetta si chiama piscopunch da punch poi ovviamente è stato aspetta che faccio passare il cane che va a bere e poi è stato niente si è incastrato e poi è diventato un drink diciamo individuale era stato creato da un bartender da anche a nico appunto durante la corsa all'oro a San Francisco è uno dei quei drink un po' come faceva Don De Beach teneva la ricetta nascosta quindi nessuno ha mai saputo la ricetta del pisco punch perché quando gli lo chiedevano lui si nascondeva lo faceva e te lo riportava dopo un po' un ex proprietario di quel bar ha rivelato la ricetta in un giornale californiano quindi più o meno è quella poi abbiamo il cilcano che è una sorta di moscomule con con il pisco solo che non ci va ginger beer ci va ginger ale e poi lime diciamo che allora qui ho di nuovo tante persone mettono 10 ml altri ci sprenano proprio una scorsetta dentro dipende come ti piace ad esempio a me a carnevale me l'hanno fatto con un culetto di lime spremuto così e buttato squeeze and drop altri ci mettono 10 ml di lime io direi se ci metti più lime lo dovresti bilanciare con un po' di zucco però secondo me 5-10 ml di lime pisco gingere ale anche qua qualche goccia di bitter aromatico e poi c'è poi c'è il capitano che è una sorta di manattan con il pisco parti uguali pisco vermo parti uguali è quello che dice la ricetta di nuovo si fa in Peru mettono molto più pisco che vermo quindi servito in coppetta quindi una sorta di manattan e poi c'è una cosa che io invece qua prima Ivan lo diceva Ivan è un peruviano che vive a Milano tra l'altro anche lui molto esperto di pisco il pisco è molto versatile una cosa che uno dei progetti che avevo e che avrò insomma quando un po' tutti ci risistemiamo è quello di cercare di far capire come il pisco sia un prodotto molto versatile nel senso che prova ecco qui Daphne dice che il pisco piccione era un drink che scherziamo per dire un paloma con il pisco fare un pedo con il pisco sto bevendo pisco tonic pisco tonic è una cosa che ho iniziato a bere qua a Roma e quando sono andato in Peru a marzo ho notato che in tutti i bar c'è il pisco tonic poi loro lo servono molto alla spagnola col con il balloon eccetera però insomma il pisco tonic quello che invito a fare io è provate poi non deve essere meglio o peggio quelli sono gusti vostri però provate a sostituire un distillato molto spesso deve essere un distillato bianco che funziona meglio con il pisco un musco mule ad esempio con il pisco secondo me ha più carattere certo una componente aromatica in più anche perché il musco mule si fa con la vodka che comunque è abbastanza anzi è famosa per essere in odore in colore in sapore esatto quindi è quello è un ingrediente finto esatto è quello su cui io spingerò spingerò e sto spingendo ogni volta che faccio quello che faccio le masterclass cioè piuttosto che creare un drink io ok devo creare un drink con il pisco per me la migliore idea per cominciare a farlo bene ma non per parlare al bartender parlare proprio al consumatore finale è proprio quella di farlo associare a cose che le persone già conoscono l'associazione è il mezzo più importante per far conoscere una cosa per esempio questa è una cosa che dice pure Simone Caporale Simone ha le sue masterclass lo conosci cos'è un pomelo sì boh più o meno se ti dico vabbè è tipo un pompelmo un po' più grande ha un colore giallo verde tu pure se non hai mai visto il pomelo però un po' te l'immagini perché l'ha associato al pompelmo che invece conosci certo e quindi questo è un po' il ragionamento che faccio io io te l'associo tu conosci il movito sì provalo un attimo con un pisco Italia che l'Italia è un uovo molto aromatico provalo con il pisco Italia magari mi dice più cattivo è più buono però intanto vedi come è bersaglio ti sei fatto un'idea ti sei fatto un'idea di che cos'è è vero esatto come nasce questa passione per il pisco Luca l'abbiamo raccontata inizio live quindi dovrei andartela a rivedere devi tornare dovrei tornare e ascolta in miscelazione quindi ci hai dato un po' di consigli cioè il primo magari di sostituirlo a un distillato bianco ci restano una decina di minuti magari vuoi svelarci qualche ricetta tua personale che è molto forte con il pisco beh guarda ho due drink in particolare che sono andati molto forti nel menù scorsi per il frizzo sono stati due dei best seller il primo so se riesco forse basta che si metta a fuoco un po' sì dai ce l'abbiamo più o meno l'ho chiamato back to the pisco perché era un po' back to the future un po' il pisco sour del futuro sai che adesso va molto di moda e noi la facciamo anche usare acido citrico acido malico eccetera o fare questi drink dal colore un po' appunto con un po' di colore però trasparenti clear e quindi ho fatto veramente pisco ho creato ho riprodotto il lime usando gli acidi semplicemente simple syrup semplicissimo e poi ho usato un'acqua di cocco però con il butterfly pt che è quel tè che dà colore ma non dà sapore quindi questo tè blu che a contatto con l'acido diventa violetto rosa cambia colore quindi in steer ovviamente senza bianco d'uovo senza shake in steer con un bel cubo di ghiaccio dentro ricoperto d'oro commestibile edibile esatto commestibile che compravamo perché abbiamo trovato un fornitore che ci dà dei cubi di ghiaccio a prezzo molto vantaggioso poi mi dai il numero allora eh non so non so se se non stai a Roma se te lo puoi portare no adesso è un provincia cambio provincia prosinone quindi vabbè fa nulla però io potresti aprire una filiale e quindi questo è un cocktail che è andato tantissimo invece un altro che è andato tantissimo che io l'ho fatto quasi per scherzo ad una master ad una guest master che ho fatto a Bergamo con gli amici del Barriere e l'ho chiamato aperuano aperuano perché era un drink fatto da aperitivo quindi aperuano e poi perché a Roma è come dire è un drink probabilmente zero complessità zero innovazione ma è stato il più venduto della lista scorsa ma per distacco tipo centinaia e centinaia di drink in più rispetto al secondo più venduto è semplicemente pisco aperol in parti uguali poi c'è lime e pompelmo succhi in parti uguali sciroppo di pesce che funziona sempre menta e top di soda al pompelmo sapore super fresco questa pure ti faccio vedere un po' quasi più o meno sì 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 sapore super fresco ovviamente io ho giocato io spesso faccio i drink che magari non dico non mi berrei ma non sono il mio stile di drink però faccio i best seller perché basta che vai a ricercare le persone che cosa cercano di più quindi ci metti ci metti pompelmo rosa che adesso sta andando tanto ci metti nel passion fruit ci metti l'aperol comunque lo spitzer ragazzi che volete no è sempre il drink più venduto uno dei più venduti in Italia quindi possiamo possiamo dire quello che vogliamo metti l'aperol la gente lo compra perché le pippe che ci facciano sono pippe da bartender vero piccola premessa sì tanti dicono è un drink un po' banale sì ok intanto è uno dei più venduti al mondo tu ce l'hai un drink il più venduto del mondo no esatto prima fallo poi parliamo sì ma poi senza spritz sa quanti bar fallirebbero quindi ma infatti invece un altro che avevo fatto era ho giocato con il nome l'avevo chiamato tree grapes quindi ho utilizzato solo cose fatte con l'uva quindi ho fatto un cordiale aromatico con un vino aromatico avevo utilizzato un vermouth e ho utilizzato il pisco quindi tre cose che vengono dall'uva sì appunto tre grapes quindi allora leggiamo un consiglio esatto ti riedono un consiglio su che tipo di pisco acquistare in Italia che tipo di pisco acquistare in Italia beh innanzitutto dipende se sei un barman o no perché i distributori hanno vari tipi di brand c'è Compagnia che ce l'ha uno c'è Inebbele che ce l'ha un altro ci sta Ghilardi che ce l'ha un altro eccetera eccetera dipende allora se ti piace qualcosa di più secco ecco vedi pisco Fontana Perù che è stato appena preso da Meglier se ti piace qualcosa di più secco vai su un chebranta se ti piace qualcosa di più aromatico vai su un Italia anche perché sono quelli che troverai con più facilità allora chebranta è l'uva non aromatica in capanchi Mario Farulla ci è collegato sì intanto salutiamo anche Mario Mario su grande istituto della pizza con l'ananas quindi se ti piace qualcosa Piero quindi troverai il chebranta e l'Italia io ti consiglio se trovi di prendere un mosto verde poi dipende l'uso che ne devi fare se è per casa per bertelo prendi un mosto verde spendi costa un po' di più il mosto verde perché essendo una creazione alcolica più bassa ti ricordi la fermentazione si interrompe prima certo quindi ci vuole più uva per fare il mosto verde e quindi costa di più che ne pensi del costo del classico di un bar allora allora ti faccio una domanda prima che rispondi quanto tempo credi che impiegherai a rispondere perché siamo veramente quei minuti allo stretto quanto quanto ci devo mettere ci metto 30 secondi ok sì all'incirca all'incirca perché sta per terminare purtroppo sai c'è abbastanza di tempo Instagram vai io ci combatto probabilmente ogni giorno con questa cosa secondo me il trucco è cercare delle alternative sul mercato o dai vostri fornitori si trovano anche tanti bicchieri molto belli che costano intorno all'euro 80 centesimi l'uno quindi se tu vedi un bar che c'è un bicchiere da 3 euro e passa all'uno sicuramente c'è qualcosa di molto simile anche a di meno ok però è importante in un bar come il mio dove si li rubano si rompono la gente ci passa e già in giro per strada e devi tenerlo molto ad occhio il vero costo di un bar devi di un bicchiere è vero è vero è fondamentale anche perché insomma anche quelli fanno cassetto no? certo certo io bevo acelato allora beh acelato io ve lo dico sempre nei cocktail che lo preferisco utilizzare perché è la via di mezzo essendo un blend di over non aromatiche aromatiche invece che pensare uso questo uso questo uso in blend e direttamente vai con quello ok allora Riccardo noi abbiamo terminato il tempo a disposizione per noi oggi ci teniamo a ringraziarti perché mi ha fatto davvero un bel innanzitutto mi ha inserito qualcosa a mio sul mondo del fisco che sai come hai detto tu a quella bottiglia che è al bar conosci però in maniera così un po' più approfondita non ci avevo mai fatto caso certo quindi intanto ti ringrazio dal punto di vista personale poi ti ringrazio anche dal punto di vista professionale perché appunto hai regalato questo un po' a tutti questa piccola lezione di oggi sì sono andato molto veloce però se volete approfondire se mi vedete in giro che faccio qualche masterclass poi parlo anche per un paio d'ore quindi da voglia va bene va bene ti invito se ti fa piacere a fare qualche altro appuntamento in cui magari possiamo o continuare a parlare del fisco oppure magari appunto di come gestire un iVolume Cocktail Bar magari sì facciamo quello sì sì anche che poi ti vedo sul fisco o parliamo veramente per due ore o oggi ti ho dato proprio l'infarinata generale certo certo grazie ragazzi per parlare di fisco no grazie a Riccardo che è lui che è l'esperto c'è anche Diego del quanto basta di lecce c'è Manfredi di Viterbi sono di Viterbo originario lui lavora a Viterbo quindi grazie ci sono un bel po' di persone connesse sì 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 un sacco di amici sì 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 molti va bene allora ti ringrazio Riccardo e ti do appuntamento in un altro episodio quando vuoi quando vuoi il mio numero ce l'hai va bene grazie di nuovo grazie a te grazie a te buona giornata ciao a tutti